bentornati a tutti in un nuovo video oggi vi mostrerò come vedere tutti gli ultimi film e serie tv e via dicendo sul proprio smartphone android senza pubblicità o siti strani per prima cosa dovete andare in link in descrizione scaricare l'applicazione freeflix alta qualità l'unica pecca di questa applicazione è che avremo solo film e serie tv in lingua inglese come vedete adesso siamo nella sezione movies e abbiamo love simon my teacher my obsession e altri film di recente uscita ad esempio mamma mia e possiamo condividerlo su eventuali chromecast o smart tv possiamo andare a filtrare quello che ci può interessare possiamo andare a impostare se i sottotitoli o meno e abbiamo i film i show tv che sono le serie tv ovviamente vi ripeto tutti in inglese vedete qui abbiamo un po di titoli poi abbiamo i discover che sono altri tipi di serie tv poi Jurassic World e via dicendo poi abbiamo gli anime come detective con naruto one piece dragon ball e via dicendo poi avremo i cartoni come steve universe ricchi e morti e adventure time e altri cartoni di quel genere poi abbiamo la live tv dove possiamo andare a importare nuovi canali oppure per vedere quelli che ci dà disponibili sia come p tv che music religione e zone adulti tv abbiamo un po di scelta probabilmente riusciamo a vedere anche delle partite tramite programmi esteri poi oltre a questo abbiamo il resting se ci può interessare vedete poi abbiamo quest'altra schermata che ci dà alcuni programmi che stanno andando in onda ad esempio questo va dalle quattro e mezza alle cinque del pomeriggio e poi abbiamo i canali di news qui ci fa vedere quelli già visti i nostri favoriti ce li fa scaricare le impostazioni e altre funzioni ad esempio andiamo ad aprirci un film deadpool 2 ok qui possiamo cliccare su change server se non ci riproduce il film che vogliamo vedere possiamo vedere il trailer qua c'è una breve descrizione del film e possiamo vederlo facendo watch qui abbiamo i vari siti di cloud che hanno il video caricato possiamo scegliere tra il 720p e il 1080p possiamo scegliere se scaricarlo adesso per sbaglio ho fatto con l'onload o vederlo ok vedete che si sta aprendo video ci metterò un po per aver scelto quello più con la risoluzione più alta vi consiglio di impostare i sottotitoli se non sapete la lingua originale italiana eccolo qua che parte andiamo un po più avanti vedete il film è in alta qualità e si può vedere bene sia sul telefono che sulla tv questo è tutto se vi è piaciuto questo video lasciate un like iscrivetevi al mio canale